Bella raga, oggi vi insegnerò a costruire le strutture in aria Allora, le strutture in aria sono molto semplici da costruire Bisogna allora fare Questo Se voi potete fare la costruzione che volete Fate questo procedimento Se vi sembra mostro costruendo questa costruzione a caso Mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale Attivate la campanellina e condividetelo Mi raccomando mettete sempre il doppio salto Per esempio mostro costruendo questa struttura a caso Voi potete costruire la struttura che volete Allora, guardate la campanellina e condividetelo Allora, guardate la campanellina e condividetelo E raga, appena avete finito la struttura da costruire Come faccio io in questo momento appena finito Allora Rompete subito la struttura Poi cliccate su esci con il gruppo e la struttura La struttura adesso sarà in aria Però dovete subito cliccare esci con il gruppo Rompete e cliccate esci con il gruppo Poi adesso stiamo in caricamento Aspettiamo E vediamo se la struttura in aria si è fatta Adesso rientriamo in pietralegna Se volete anche un tutorial Come avere il progetto del lanciallo Arriviamo a 5-10 like Sono pochi Vorrei cambiare un po' Aspettiamo Montiamo il lama Che l'ho trovato ieri Ok, entriamo Vediamo se la costruzionaria si sposta. Poi se volete essere nelle mie live, la maggior parte delle volte lo scriviamo su Twitch e no su YouTube perchè su Twitch non si lagga e se volete scrivere sul mio canale Twitch si chiama Giovanni Staccato Spinner. Ecco raga quella è la struttura in aria come vedete c'è fatta, vedete c'è fatta 3 1 3 c'è fatta e poi c'è costruito sotto e la fate mantenere e poi rompete di nuovo e poi cade la struttura, vabbè raga bella iscrivetevi al canale e lasciate like bella.